Transitano mediamente 13.000 veicoli al giorno sulla statale 415 che collega Cremona a Milano, una delle arterie più frequentate da automobilisti e soprattutto da autotrasportatori. Nel fine settimana il traffico diminuisce pesantemente con circa 8.000 veicoli, ma la strada rimane trafficatissima e pericolosa, teatro di incidenti anche mortali. L'amministrazione comunale di Sesto ed Uniti ha deciso di installare un autovelux bidirezionale in grado di fotografare i trasgressori. Attivo da un paio di mesi e ha già sanzionato il 65% circa degli automobilisti, la CNA insorge chiedendo maggiore impegno sul fronte della prevenzione. La prevenzione non si fa mettendo gli autovelux. L'autovelux va messo nelle situazioni che sono definite molto chiaramente anche dalla circolare Maroni, in cui dice che l'autovelux va messo per prevenire incidenti stradali e mettere maggior sicurezza nei luoghi laddove sono avvenuti il maggior numero di incidenti stradali. Non mi pare che quella di Sesto sia una strada o meglio una località nella quale siano avvenuti decine e decine di incidenti stradali. Il Comune invece ribadisce la scelta di aver utilizzato cartellonistica a doppia dimensione rispetto a quanto previsto dal codice e ricorda che gli autotrasportatori sono obbligati a rispettare i limiti come gli automobilisti. Tengo a precisare che tutto l'intervento che riguarda l'installazione di questa tipologia di strumento è assolutamente legittima e conforme a quanto dice la legge e soprattutto faccio presente che è assolutamente una postazione molto visibile e segnalata adeguatamente secondo quello che ci chiede la legge e addirittura la cartellonistica è stata sovradimensionata con le specifiche autorizzazioni che è stata la legge. Quindi è una strada sicuramente importante di collegamento perché è una strada provinciale che è il principale collegamento con quello che può essere Crema e Milano. È chiaro che è su dei punti di criticità tant'è che l'autovelux è stato installato in prossimità di un incrocio a raso. Al sindaco di Sesto Cremonese la CNA Fita Cremona suggerisce di installare un avvisatore luminoso della velocità di percorrenza prima della postazione dell'autovelux e punta sulla prevenzione per evitare incidenti e aumentare la sicurezza attraverso azioni virtuose. Le imprese che hanno diversi veicoli in quel tratto di passaggio è vero che c'è la segnalazione è vero che una segnalazione come si dice prudenziale e attenta alla prudenza e alla sicurezza avrebbe voluto, come abbiamo fatto noi nella proposta segnalare con un segnale luminoso come esiste in tante altre strade via Mantova in segna che il veicolo sta superando la velocità e così si fa sicurezza si evita le frenate brusche si evitano le disattenzioni perché un segnale luminoso è molto più visibile che un segnale tipicamente cartellonistico Secondo la CNA l'installazione dell'autovelux potrebbe aiutare il comune a fare cassa Se non porranno rimedio devo dire che raggiungeranno i loro obiettivi se gli obiettivi sono quelli di 800.000 euro all'anno per la cassa del comune di Sesto andando avanti così li supereranno Ritengo però che questo non sia il modo corretto per fare sicurezza per fare educazione stradale